I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I, I'm a lead, and when they lay me down the red, I know I was always rap Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro DarkHouse92 Oggi sono qui perché come da titolo, sì, avete proprio capito, sono stato killato da Blur Ragazzi ero in una live di un mio carissimo amico che vi lascio il suo link in descrizione del suo canale che si chiama Kyuki Che praticamente stavo facendo qualche duo con lui e nel frattempo stavamo giocando tutto a posto, tranquillissimi E da qui in poi ragazzi parte tutto, io adesso vi faccio vedere regà perché voi dovete vedere cos'è successo Allora questo sono io, ok? Ovviamente stavo appunto giocando con il mio amico Kyuki Praticamente lì davanti a me ci sta Blur ragazzi, mi stavano sparando da destra quindi io continuavo a sparare a loro di là Niente e ragazzi cioè è una cosa davvero 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 affascinante perché aumentiamo un po', vi faccio vedere Perché veramente raga non me l'aspettavo essere killato da Blur raga Io sono sicuro che è quello vero perché so che una volta ho giocato con lui e con Tyler Strike tramite un mio amico E quindi automaticamente ho detto cacchio è stato effettivamente lui a killarmi Qua avevano killato appunto Kyuki e io appunto lo stavo arrestando però il problema è che c'era la safe, non avevo materiali e quindi sono andato a prendere i materiali E qui adesso parte tutto perché in questo caso qui mi sta per pusciare Blur e il suo amico Solamente che il suo amico gli butto il razzo e... no non era il suo amico, era un altro questo infatti l'ho killato E tutto ad un tratto qui succede il delirio più assoluto perché sì sono stato killato da lui però cioè è qualcosa di veramente assurdo Io adesso metto un pausa, faccio così, questo è l'amico di lui Vedete che lui sta pusciando me, guardate E qui mi uccide Adesso ritorniamo poco 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 indietro Rimetto da me e guardate Cioè veramente il Dark House è stato eliminato Cioè regà esseri killati da Blur ma ci siamo Ma Blur ma me lo spieghi ma che ci fai su Fortnite? Il re, il king delle bestemmie regà su Fortnite veramente qualcosa di veramente assurdo Cioè guardatelo, poi è bello che si muove molto 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 bene Cioè qualcosa di veramente assurdo E appunto io cioè ci sono rimasto Infatti in quel momento ho detto al mio amico Ho detto oh porco tu c'ha killato Blur e lui come Blur? Ma davvero sto scherzando? Ho il nick fake? No no no, è proprio lui perché appunto il suo nick è quello Io non so adesso vorrei mettervi appunto Elenco giocatori Stallion Blur quindi qua potete vederlo Regà è qualcosa di veramente assurdo Guardate lui che qua buscia col rampino Guardate Stallion Blur Lì TL Darkhouse 102 e boom E purtroppo sono morto Veramente regà io ci sono rimasto tantissimo Perché ho detto porco tu c'è Blur mi ha killato E ho detto boom gli faccio subito il video perché lo devono sapere gli altri Quindi ragazzi qua appunto parte il fatto che Blur gioca a Fortnite Comunque ragazzi per questo video è tutto Mi raccomando ragazzoli un bel like per questo video epico Perché non me l'aspettavo che un Blur Perché cioè poi Ah che se lo aspettavo Blur mi ha killato su Fortnite Mi raccomando tanti like per questo video Tante condivisioni per farlo vedere a tutti che sono stato killato da Blur E Blur se stai vedendo questo video ti odio Ti odio perché dai cacchio Va bene Blur se stai vedendo questo video mi raccomando Dai una piccola conferma anche ai nostri cari telespettatori Che ci stanno comunque guardando I nostri spettatori I miei iscritti E dai la conferma nei commenti che sei stato tu a killare Etl Darkhouse 92 E che è il tuo nickname su Fortnite sia questo Un bacione e mezzo dal vostro Darkhouse 92 Noi ragazzi ci vediamo prossimamente con nuovi video e nuove live Bella ragazzi Woohoo